...che fa musica, ha scritto più di 40 canzoni e mi ha pregato di dire che se in sala c'è qualcuno che con lui vuole un po' scambiare le idee, sia diciamo musicali, può benissimo rivolgersi a lui stasera e magari chissà, nascerà un nuovo duo, un nuovo gruppo con nuove idee. Ecco, si deve aggiustare ancora il microfono, pazienza. Ecco, queste sono le canzoni inedite, quest'anno sono quattro le canzoni inedite e giustamente quest'anno il Circo Amicato di Del Peppa ha pensato di fare queste quattro sezioni in modo tale che ogni gruppo avrà una giuria a parte, sarà giudicata a parte e credo che sia anche giusto così perché diciamo le canzoni inedite sono canzoni nuove, per la prima volta le ascoltate, non è magari come una canzone che sono dicendo lui, per me la conosciamo tutti, quindi delle canzoni che bisogna ascoltare con un po' di attenzione perché è un testo nuovo. Allora, vi presentiamo Shasha Franco con Turidu Picciotto Nes Tufu. Ecco, c'è anche il macchinista, lo faccio io. Ogni posto, ecco, va bene? Non va? Più vicino, avvicinate tu. Sono gli inconvenienti, i belli della diretta diciamo, ecco. Se non sentite reclamare, eh? Sta benissimo. Shasha Franco Turidu, la Rosa Nes Tufu. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si è emozionato, chi è che ha aperto la bottiglia? Allora, Michele... No, no, no. No, no, no.